Vice sindaco Tacchetti, questa mattina avete fatto un po' il punto della situazione riguardante il PD, il Partito Democratico qui a Roseto. Era presente il sindaco Sabatino di Girolamo, erano presenti le grandi forze del centro-sinistra del PD qui a Roseto. Qual è al momento la situazione in vista delle elezioni? Intanto Sabatino di Girolamo è un uomo del Partito Democratico, è una risorsa del Partito Democratico ed era scontato che fosse qui questa mattina. Per quanto riguarda la situazione politica, noi stiamo dialogando con tutte le forze politiche di centro-sinistra, nonché con tutte le forze civiche che ruotano intorno a quest'area, nonché anche al mondo imprenditoriale, al mondo del tessuto sociale ed economico di questa città per far sì che nelle prossime elezioni il PD si possa presentare con una coalizione forte, coesa, che possa ambire quindi a governare questa città per i prossimi cinque anni. È un lavoro che stiamo portando avanti dal momento in cui c'è stato il commissariamento in questa città dell'Unione Comunale del Circolo, con il pieno appoggio del partito regionale e provinciale e quindi stiamo portando avanti un lavoro che faccia uscire il Partito Democratico da quell'isolamento politico che l'aveva visto negli ultimi periodi e che possa ritornare quindi sulla scena politica da protagonista insieme a tutte quelle persone che ritengono il bene della città di Roseto primario rispetto ad ambizioni personali. Mentre chiusa definitivamente l'opzione di accordo con Italia Viva è soprattutto l'ala ginobliana. Chi sceglie di uscire da un partito per fare un progetto suo ha tutta l'assoluta possibilità di farlo ed è abilitato a farlo. Però chi esce da un partito con l'obiettivo di rimettersi d'accordo con quel partito due o tre mesi dopo, credo che sia, ripeto, politicamente inopportuno e io lo ritengo anche un pochettino immorale. Quindi non credo che ce lo chiederanno e non credo che noi lo chiederemo a loro.